L'Italia ha una biodiversità molto alta perché della sua morfologia diversa e climatica. Inoltre, il numero di snelli e gasteropoli che possono essere trovati in Italia è molto alto. Infatti, più di 20 di queste specie di snelli sono over-exploitate, sono in brinca dell'extinzione, sono in danger. Alcuni di questi sono endemici, sono presenti solo in Italia e non c'è niente del mondo. Alcuni di questi vivono in un numero molto piccolo di hectare. Questo significa che se questo habitat si riuscirà, si riusciranno dalla face dell'Earth e per sempre. Per questo motivo, FRIEND OF THE EARTH ha sviluppato un progetto in collaborazione con i scientifici di l'Università di Florence per preservare queste specie. In particolare, abbiamo concentrato due specie, una da acqua, una da acqua, una da acqua, una da acqua, una da acqua e una da acqua. Questi snelli sono riusciti in un modo seleccionato, e sono riusciti in un modo di riproduzione ex sito, per migliorare le chances di successo, per la survival della popolazione. Questi snelli sono riusciti in un modo di riusciti in controllo di habitat. Stiamo facendo insieme un lavoro che è pionieristico. Stiamo facendo insieme un lavoro che si tratta di un progetto. Ci sono probabilmente solo due o tre similar progetti in Europa. Questo potrebbe essere una guida di guida in quanto riguarda in futuro. Il ex situ breeding è un tipo di biologica banca dove indagere specie sono riusciti. È un ambiente sicuro per essere bred in, ma non è un ambiente naturale. in quanto riguarda un evento eccezionale in il loro habitat, causando la destruzione di tutti i specie, grazie al nostro progetto ex situ, potremmo essere riusciti da questa banca biologica e riusciti le specie in il loro ambiente naturale. Siamo qui nel laboratorio dell'Aquarium Mondo Marino di Massa Marittima, in Toscana, insieme con gli esperti del Museo di Natural Science di Università di Florence. Questa mattina abbiamo scelto da alcuni strumenti termali alcuni individui di Melanopsis etrusca, molto piccoli e piccoli, che si trattano per l'extinzione. I esperti adesso mesurano e scegliendo in un modo unico ogni unico individuo, così che sia possibile, nei prossimi mesi, per mesurare la crescita dei individui e, seguendo la riproduzione, reintroduzirli in un habitat controllo. Questa struttura ha una specie molto particolare, la Melanopsis etrusca, un molto interessante e raro mollusco in Tuscany. L'Aquarium staff, con la sua esperienza specifica, cercano di realizzare speciali tecniche per mantenere un stock di specifiche per garantire la continuità di questa varietà in natura. Il progetto di Italian Snails conservation è unico in Italia per questo tipo di attività di sicurezza. di sicurezza, questo progetto implica anche una attività di attività molto importante, in cui rendiamo la popolazione locale aware del problema, rendiamo i cittadini locali aware del problema e chiediamo per la collaborazione. Ma l'obiettivo è di rendere questa attività a livello nazionale e internazionale. Questo è un problema internazionale e noi vorremmo di duplicare in altre regioni e per altre specie molto presto, nel futuro.